Ciao raga! Ultimamente sui social sta andando di moda un balletto, una canzone molto bella Vabbè venute che vi sto a parlare ragazzi ve la faccio vedere questa qua Ovviamente qualcuno mi ha detto Eh Michele ma perché non lo fai tu? Non sei capace Non lo vuoi fare perché non sei capace Allora ragazzi io quando devo fare una cosa la devo fare bene Appunto per questo ho chiamato un aiuto Ragazzi venite qua vi fate vedere Ragazzi loro sono venuti apposta per il balletto Qualcuno mi ha detto Mi chiede che voi non siete capace E noi li rispondiamo così Adesso dice te Ma lo dico Ragazzi andatevi a preparare Vai vai Ragazzi andatevi a preparare Ma la duство Dice no Svece ma la du le? Alessi ma la do Ragazzi andatevi a fare Ragazzi e allora 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 Fallon Ragazzi e allora Réa